Ciao a tutti, benvenuti nel mio nuovo video, bentornati, se siete già stati qua iscrivetevi al mio canale se vi piace e oggi parleremo delle profumi equivalenti e perché non li compro, perché non posso dare il mio supporto a questo fenomeno incominciamo dalla cosa importante che devo fare, che devo dire, la premessa se voi comprate profumi equivalenti e ci sono più di un'azienda che li fa, ci sono tantissime aziende che li vende fate voi, vi piace, comprate, lo fate per voi, usate voi, quindi se questo vi rende felici allora io non ho niente da dire parlo solo di me, io non ho mai comprato profumi equivalenti e non li comprerò mai per un semplice motivo e questo è dovuto anche al fatto che ho studiato all'università prima uno, poi l'altro e mi capitava ogni tanto scrivere anche, a parte che ho scritto anche tre tesi comunque dovevo scrivere anche questi articoli e il nostro, la nostra paura più grande era di fare il plagio che anche se tu lo fai senza volerlo fare, comunque tu lo commetti, commetti il plagio e plagio è appropriarsi di qualcosa che non ti appartiene e fingere che sia tuo usare una cosa, usare il testo oppure usare una cosa fisica, tangibile e non riconoscere che appartiene l'idea, appartiene a qualcun altro e questo io non supporto io credo che qualsiasi brand, qualsiasi azienda che ha fatto qualcosa di suo deve essere riconosciuta per questa e deve essere anche ripagata per questo economicamente possiamo fermarsi qua ai profumi, ovviamente adesso non vado a parlare di libri non vado neanche a parlare di borse falsi, contraffatti, no no stiamo parlando di profumi che, per esempio, prendiamo il Baccarat Rouge 540 che probabilmente è uno dei profumi più famosi adesso e anche nei ultimi 5-6 anni credo che sarà ancora famoso per un bel po' ci sono tantissime coppie di questo profumo, ci sono anche tantissime alternative a questo profumo e non necessariamente sono meno costose e contro questo io non ho niente da dire per esempio, tante persone dicono che un profumo dove l'ho messo? dove l'ho messo? allora, eccolo qua un profumo o una mini di Barbary Her assomiglia tantissimo al Baccarat Rouge 540 di Maison France Cookie Jam ed è vero, all'inizio ci sono queste note molto particolari, molto riconoscibili poi c'è questo profumo qua che io non l'ho comprato per queste note iniziali che assomigliano il Baccarat Rouge questo è Eden di Kayali Juicy Apple ma l'ho preso proprio per il sentore di questa mela molto molto succosa che c'è qua dentro ma è vero che le note inizialmente ricordano un pochino il Baccarat Rouge quindi queste sono le profumazioni che semplicemente seguono il trend il Baccarat Rouge ha fatto un trend non ha fatto un trend ha fatto un super, mega, maxi, iper trend per questi profumi se voi avete sentito il Baccarat Rouge almeno una volta voi capite benissimo di cosa sto parlando è un profumo molto buono, molto sensuale molto buono tante persone avrebbero detto che non c'è niente di buono in quel profumo però a me piace a me piace di più il Baccarat Rouge Extra un pochino di più di quel classico anzi un tantino di più di quel classico lo trovo più buono ma comunque il Baccarat Rouge è la profumazione che per quanto mi riguarda per quanto riguardano i miei gusti non mi fa impazzire è una profumazione sì, è buona sì, io ho campioni di questo profumo e lo potevo anche acquistare però a me non fa né caldo né freddo però capisco benissimo tantissime persone che amano questo profumo li capisco e ci sono tantissimi brand che hanno approfittato di questo trend e hanno fatto la sua interpretazione uno dei più famosi sia anche Ariane Grande con il suo cloud poi ci sono queste che vi ho fatto appena vedere ma questi non sono i doppioni questi non sono i profumi equivalenti questi non sono i brand che dicono ah comprate questo ottenete il Baccarat Rouge no, questo è il profumo loro semplicemente ha questi sentori che ricordano all'inizio ricordano il Baccarat Rouge e con questo io sono pienamente d'accordo perché è come come seguire un pochino il trend del non so dei smalti se voi andate a guardare i smalti quelli che escono sotto Natale tantissimi tantissimi brand usciranno con rosso verde scuro verde bosco argentato paillettato oro perché questo che si indossa questo che si vuole a Natale è un trend e quindi non significa che un brand sta copiando un altro è un trend il Baccarat Rouge è diventato un trend e lui il Baccarat Rouge è unico inimitabile molto buono e ci sono tantissime brand che hanno che hanno voluto seguire che hanno voluto fare la sua interpretazione e ci sono tantissime anche interpretazioni che sono veramente low cost tipo Zara allora io con i profumi di Zara non vado tanto d'accordo io ne ho due e ho tutta la collezione di Zara con Joe Malone però non non trovo che i profumi di Zara sono eccezionali sono buoni sì ma non mi fanno impazzire io sto parlando adesso di quei piccoli negozietti dove voi entrate c'è anche un elenco di tutti i profumi più gettonati più famosi nel momento e voi dite ecco voglio il 30 ml di Baccarat Rouge e voi uscite con la boccetta che assomiglia il Baccarat Rouge io sono contro di questo perché questo per me è un plagio questo per me appropriarsi della proprietà intellettuale di un'altra persona un'altra azienda appropriarsi degli anni del suo lavoro della sua ricerca della sua del del suo il savoir faire che ha fatto questa persona questo naso che ha creato questo profumo appropriarsi e fare il suo fare il suo e non avere nemmeno la licenza di mettere il nome solo il numero o il nome che vagamente anche assomiglia il profumo che state cercando state cercando io sono contro questo contro questa pratica a me non piace questo perché io sono fermamente convinta che il lavoro delle persone deve essere riconosciuto il lavoro delle persone che sia un artigiano che fa mobili che sia un naso che crea profumi che sia qualsiasi persona deve essere ripagato adeguatamente e quindi creare dopo qualcosa così no io non sopporto questa pratica in più come già detto all'inizio di questo video se voi usate questi profumi sono le scelte vostre io non ho niente contro perché sono le scelte personali io per me non le avrei fatto perché per esempio è stato abbastanza tempo fa quando appena facevo video recensioni e mi ricordo il momento quando un paio di miei video sono stati rubati mi ha avvisato youtube di questa di questa cosa e sono state inserite nel canale youtube di un negozio che vendeva i profumi vendeva profumi falsi e usava i miei recensioni ma anche le recensioni delle altre persone come una una review io ero ero nera dalla rabbia perché la mia cosa è stata usata per promuovere una cosa che io non avrei mai comprato che non avrei mai nemmeno messo la parola pro no questo non mi va quindi c'è un un altro brand che mi piace tantissimo e c'è un profumo che io compro e ricompro e ricomprerò sempre di questo brand perché non riesco a trovare un'alternativa e questo è un brand che non mi piace particolarmente perché la persistenza è pessima e io sono la prima a dire che il costo di questi profumi è esagerato per la persistenza che c'è e poi alla fine è un acco di colonia quindi non posso nemmeno pretendere che sia tanto che rimane su di me per poco tempo questa è una profumazione buonissima di Jo Malone e English Parent Frisia quindi questa è la pera inglese e la fresia buonissima questa profumazione è buonissima non riesco mai trovare niente di simile mai cercato e cercato e anche anche profumi che costano di più perché per me è importante avere anche la persistenza di questo profumo ma non riesco a trovare niente di simile di conseguenza ricomprerò sempre questo profumo e ho provato un altro profumo molto famoso costa meno costa molto meno che nel nel nome riflette anche un pochino questa la pera fresia quindi si può capire che sta imitando questo profumo perché mi è stato detto numerose volte ah sei un sei un perdente perché stai comprando questo profumo quando esiste quello là e quello là è eccezionale perfetto molto più buono molto più persistente costa molto meno e tu sei una perdente che stai comprando sempre questo qua io ho comprato questo profumo e la fatalità mi è arrivata rotta ma comunque sono stata ripagata poi per il profumo ma comunque ho potuto ho potuto testarlo non è niente a che fare non è niente a che fare l'ho preso solo per la curiosità mia e anche per avere cosa rispondere a queste persone che dicono che è un profumo uguale non è uguale l'unica cosa che può essere uguale ad English Parent Frisia è un English Parent Frisia di John Malone basta non ce n'è altra e quindi tante persone so perché penso che saranno anche i commenti ah ma se tu non puoi permetterti un profumo tu vai da questi da questi brand che vendono profumi equivalenti allora stiamo parlando di anche di un'altra cosa non ho per caso scelto come un esempio il Baccarat Rouge e Maison France Courkegian è uno dei brand che offre una vastissima gamma di prodotti che permettono di acquistare profumi e non spendere tanto sul loro sito voi potete acquistare anche campioni 4 campioni costano 14 euro e voi potete scegliere del tutto campione a 2 ml quindi io piuttosto acquisterei un campione di una roba vera che è una roba falsa per me per come sono fatta io e per il mio innato rispetto verso quello che fanno le persone poi se io penso se qualcuno mi chiede ma pensi veramente che i profumi di di Maison France Courkegian valgono la pena alcuni sì alcuni no per esempio i profumi che mi piacciono di più sono profumi agrumati io ho tutti i profumi di Maison France Courkegian in questo formato qua perché secondo me 35 ml per 120 euro no non ne vale la pena perché non sono tanto diversi da tantissimi profumi agrumati che ho ma questa è scelta mia personale se comprare questo profumo o no ma il brand vi dà la possibilità di acquistare anche campioni e piuttosto veramente acquistato un campione di una cosa vera perché acquistando le cose equivalenti voi sapete che voi non state acquistando un profumo vero voi lo sapete e nonostante che anche il brand vi possa dire che sì questo è lo stesso profumo qua l'abbiamo acquistato sulla stessa fabbrica e solo che il nostro esce sotto il nostro marchio invece quello là esce sotto il marchio di Maison Francis Curchegian e quindi costa il triplo questo non è vero questo non è vero e per esempio mi è stato offerto anche fare una collaborazione con il brand che fa esattamente la stessa cosa loro hanno una selezione di profumi mi è stata mandata anche un elenco di profumi che potevo scegliere mi avrebbero mandato questi profumi io ho detto di no perché la mia integrità personale non me la consente poi di nuovo tornando al discorso di soldi se voi volete il baccarat rouge baccarat rouge esiste solo uno il baccarat rouge nessun profumo equivalente non sarà equivalente al baccarat rouge poi se a voi non interessa nemmeno avere un equivalente di un profumo gettonato ci sono tantissimi qua la cosa si semplifica immensamente perché ci sono tantissimi brand che sono talmente buoni e costano talmente poco che voi potete acquistare tantissimi profumi e non spendere tanto per esempio io ho sempre detto che uno dei miei profumi preferiti questo è il elisabeth arden e questo il green tea a proposito questo green tea è stato fatto dalla stessa persona che ha fatto il baccarat rouge quindi voi avete anche il software di una persona che veramente fa sa il suo un buonissimo profumo costa poco voi ogni tanto lo potete anche trovare 100 ml a 10 euro un buonissimo profumo un brand un buonissimo famosissimo bellissimo brand quindi ci sono altre alternative c'è c'è per esempio questo qua che è un brand di nicchia italiano che si chiama tutto tondo permetto che probabilmente il profumo che ho scelto non è uno dei più buoni però un brand un brand che fa la nicchia italiana a 40 a 45 euro e i profumi sono ottimi quindi le alternative ci sono oppure se voi avete voglia di comprare veramente un baccarat rouge comprate un set così qua c'è il baccarat rouge questo set di 16 ml vi costerà 40 euro sul sito di maison francese purgigiano quindi c'è sempre la possibilità sempre sempre la possibilità di comprare il profumo quello là quello vero oppure comprate questi 11 ml acquistabili sul sito di di brand sembra che il brand mi stia pagando purtroppo non mi ha pagato il brand non mi ha sponsorizzato vi voglio solo far capire che e di nuovo io non sono contro questi brand io quelli che usano il lavoro delle altre persone e poi vendono le cose che costano molto meno molto meno ma utilizzando sempre il lavoro il lavoro sporco diciamo è tutto fatto per loro è tutto stato fatto per loro loro hanno solo comprato i liquidi e adesso li mettono nelle boccette io non sono contro queste aziende io proprio sono contro usare e non riconoscere che state usando e non pagando i dividendi alla 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 persona che ha veramente creato questo profumo questo è una questa è una cosa questo è un dilemma per me ma per me è tutto chiaro io non non posso non posso condividere non posso sopportare quindi non posso dire sì che questo si può fare per me no per la mia etica io non no non sopporto questi questi brand e so che ripeto so e mi è già capitato che questo mi ha costato anche qualche collaborazione in meno però amen ecco quindi riassumendo ci sono tantissime brand che costano veramente poco tantissime brand italiani francesi ci sono i sconti adesso sta arrivando il black friday c'è sempre la possibilità di comprare il profumo quello vero autentico quindi comprate piuttosto quello piuttosto comprate una versione piccolissima ma abbiate una 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 versione del profumo veramente che vi porterà un'allegria perché avere 100 ml di profumo che non è vero non vi renderà così felice come avere 2 ml di profumo che è proprio quello là al mio parere ecco scrivetemi nei commenti se siete d'accordo con quello che ho detto d'accordo non d'accordo accetto tutto vi auguro una buona giornata e ci vediamo domenica ciao ciao